Il pericolo più grande è di perdere la pazienza quando ti danno la palla e di voler sforzare la giocata. Forse potevamo fare un qualcosina un po' più nel primo tempo, di attaccare più la profondità ancora, però non è facile perché comunque se tu allunghi la squadra poi se perdi la palla sei lungo anche in contropiede. Dunque penso che i ragazzi poi hanno fatto bene, nella pausa abbiamo parlato di quello che volevamo fare, quelli che sono subentrati hanno fatto benissimo, si sono messi a disposizione, mi fa molto molto piacere il gol di Matteo Rover dopo un periodo lungo di infortunio l'anno scorso che adesso ci ha fatto vedere che lui è veramente pericoloso quanto subentra. Sono contento che poi alla fine quel gol era fuori gioco, non l'ho visto ancora di come sembrava, però per i ragazzi sono contento perché comunque hanno messo tanto in campo in fase di possesso e anche in fase di non possesso. Le ripartenze non abbiamo sempre avuto la preventiva come si doveva, però lì è anche difficile perché anche loro hanno qualità individuale. Se l'avversario ti aspetta nella loro metà campo è difficile di cercare la verticalità con la palla, penso. Chiaro però con i cambi gioco, per esempio Kurtic due volte su Molina, se arriva con la palla, se è dietro l'ultima linea, di forzare quella giocata lì, però c'era anche un po' di vento che dava fastidio in entrambi i tempi. Chiaro, adesso sono qua e sono contentissimo perché per me anche i ragazzi si sono merettati questi tre punti, che è una partenza molto molto importante per noi. Buonasera Ministro e complimenti a questa bella vittoria. Avete vinto una partita contro una squadra forte, una squadra importante, qual è la tua sensazione immediata? Allora, se loro partono meglio in contropiede due volte facciamo fatica e poi c'è tanta energia sprecata nel possesso. Però oggi per me e anche per i ragazzi, soprattutto per i ragazzi, è da godersi questa vittoria, però a partire da lunedì ci sarà da riprendere subito, duro, intensi, perché come ho già detto ieri in conferenza la Serie B è dura, durissima, è lunga. Oggi si festeggia, in senso che si meritino anche di rilassarsi un po' e poi da domani in poi o meglio a lunedì si riparte. La scuola del primo tempo ha dimostrato di essere una scuola praticamente perfetta, dinamicità, grande atteggiamento e grande carattere. E alcuni di questi profili hanno dimostrato di aver recuperato gamba e anche condizioni rispetto all'ultimo filo di mostra. Tu pensi di proseguire su questa strada oppure ancora in testa qualche parola sia lo fa? Io penso che anche a Monza non è da dimenticare che c'era una Serie A in confronto nella partita, per questo per me anche rivedendo i dati dei giocatori hanno spinto, forse avevamo meno la palla, perché il Monza comunque è una squadra per me che è forte nel possesso palla. Io ho alternative, ho alternative che anche se vedi oggi chi entra ha fatto benissimo, oggi ha iniziato Malla perché Fabi riviene da un infortunio, però deve essere così e non abbiamo neanche parlato ancora di quelli che non hanno giocato oggi, per esempio Prageric non è entrato neanche, è un giocatore molto importante per noi e anche per il futuro. Dunque, come anche già detto, per me è anche un'idea di andare a due punte, per essere un po' più verticale ancora, però ci sarà partita a partita a vedere. No, non ancora, perché poi sono dei giocatori e così e poi sicuramente le do la mano dopo un attimo. Grazie. Grazie. Io, per essere sincero, ho provato anche dentro nel campo, un po' sotto punta, però la sensazione mia è che si trova meglio fuori, quando può andare l'1-1, può puntare l'avversario. Penso anche che non sia importante dove, sinistra o destra. Per me oggi ha fatto vedere che quando attacca la porta è cattivo e ci ha dato veramente una mano. Non abbiamo neanche parlato ancora di Zadatka che sta rivenendo, dunque io ho alternative e sono contento di questo. Vedete anche come è un'opzione dall'inizio? A Matteo? Sì, assolutamente sì, perché lì, il momento quando l'ho cambiato, avevo la sensazione, perché anche durante la settimana ha spinto, ha ripreso adesso da quel lungo infortunio che non è da sottovalutare, perché comunque è un percorso lungo da rientrare. si dice sempre che ci metti quei mesi, come eri fuori, allora adesso per me ha fatto tutta la preparazione ed è pronto, è si è visto oggi. Alla prossima Sì, è una domanda, sono stati attraversa un'occhi, quindi se la domanda, ci ha generalizzato il team x2, però non si è insieme a tutti i giorni, non si è successo a tutti i giorni. Alla prossima ma tutti i giorni, abbiamo già altrieous azDeservatori di leader in un'occhi, abbiamo già anche poi in un'occhi di domanda. Il nostro giusto è di dinamico, se è il gioco il gioco il gioco il gioco. E io credo che i ragazzi oggi, anche l'ultimo Samstag, ci sono molto molto sui sul plazzo e adesso continuo a fare. Gli qualcosa di quello che si avessero a uscire? A uscire è un grosso Wort. Io credo che abbiamo delle cose, le possiamo migliorare. Grazie mille Buona domenica